Andrea Goldoni, AD Consulting, secondo anno al fianco di Modena Volley, sembra che ci siate da sempre, tifosi, compagni di viaggio veri? Assolutamente sì, il secondo anno che abbiamo deciso di intraprendere questo cammino insieme, il primo anno è volato, è stato un anno bellissimo, sicuramente sia dal punto di vista sportivo, dove abbiamo accompagnato la squadra, sicuramente nei momenti un po' più tristi, ma sicuramente anche nei momenti di gioia, come la vittoria della Coppa CEV, ma tanto altro, stare insieme al Modena Volley per noi è molto coinvolgente, è stata veramente un'occasione unica, a partire dai momenti dei partner day, insieme a tutti gli altri partner, dove sono assolutamente molto coinvolgenti e molto divertenti, non vediamo l'ora che Sartoretti ne organizzi degli altri, anche il mio ortopedico non vede l'ora che lo organizzi, ma sicuramente anche altri momenti, come comunque poter vedere tutti i ragazzi giovani, tutto il gruppo giovanile, quindi più di 300 bambini, che indossano questa fantastica maglia, che già dalla tenera età sognano e non vedono l'ora di diventare dei grandi campioni come Bruno e tutti gli altri.